Gigi Sergio, il capitano di questa squadra che con quattro giornate dal termine ha raggiunto finalmente la salvezza e la permanenza in A2. Ci avresti mai scommesso Gigi? Beh, ci avrei scommesso sì, nel senso che ci volevamo salvare, fortunatamente siamo riusciti con qualche giornata d'anticipo, così siamo un pochettino più tranquilli. E sinceramente stasera, non so, una partita al limite dell'ingredibile, fortunatamente Diego ce l'ha fatta vincere, abbiamo vinto, abbiamo portato a casa, siamo contentissimi, contentissimi di aver raggiunto un risultato che comunque è importante. Panchina corta sicuramente, degli infortuni, problemi tanti quest'anno, ma come ha detto poco anzi Diego Monaldi, quando c'è da tirar fuori gli attributi, le furie ci sono? C'è solo da dire che ci dovevamo salvare, siamo salvi, adesso continueremo a lottare fino alla fine, per finire, si spera, sempre in crescente al meglio possibile. L'obiettivo, ripeto, l'abbiamo raggiunto, siamo contentissimi, siamo fieri di averlo fatto per la società, per i tifosi, per tutti. Io vorrei che due parole le spendessi per i tifosi della Proger, non vi hanno mai abbandonato, vi hanno seguito, tu sei già al secondo anno a Chieti, ovunque. E' il caso che tu, capitano, gli spenda due parole per loro? Sicuramente è fondamentale, è fondamentale i frutti di questi risultati che vengono fuori di cuore, vengono fuori perché veniamo spinti dall'esterno, perché abbiamo voglia appunto col cuore di portare a casa dei risultati, perché sì, possiamo parlare di tecnica, di tattica, di quello che volete, però vincere così significa metterci il cuore, tutto quello che uno ha, non c'è tecnica, non c'è tattica, per modo di dire, però sicuramente il cuore è stato il fattore dominante, quindi è per loro, lo facciamo per loro, per la società, per la città, per tutti.